benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi calciomercato juventus doppia maxi sorpresa per massimiliano allegri sotto l'albero di natale arrivano i giganti potrebbe scartare due regali sicuramente inaspettati massimiliano allegri sotto l'albero di quelli belli ovviamente di quelli che possono sicuramente cambiare le cose nella seconda parte di stagione sì perché secondo quanto riportato da tutto sport questa mattina in edicola ci sono due elementi che hanno colpito il tecnico in questa fase di preparazione in vista del ritorno della serie a due elementi che sono già bianconeri e che giocano nelle squadre giovanili uno in serie c e l'altro nell'under 19 riccio e wisen infatti si sono messi in evidenza negli ultimi test che la juventus ha sostenuto in questi giorni segnali importanti non solo per allegri ma anche per la società che conferma di stare facendo un grande lavoro sotto questo aspetto calciomercato juventus i regali per allegri la scoperta è stata senza dubbio quella di riccio difensore centrale tra i più promettenti del divaio bianconero nelle due amichevoli è stato lanciato titolare e lui ha risposto con grande personalità non una cosa scontata per un ventenne e una sicurezza da veterano indicazioni positive l'altro è il danese wisen 17enne che gioca nell'under 19 che contro rieca ha fatto il suo esordio in prima squadra anche lui ha fatto vedere delle cose importanti e che lui ha impressionato allegri che potrebbe decidere di tenerlo con sé per un altro breve periodo certo lui rispetto al collega è un poco acerbo visto che ha giocato solamente con quelli della sua età ma questa esperienza gli permetterà di crescere e fare i passi in avanti gli occhi sono puntati anche su di lui grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video notizie ciao I hope you actually led to me It just made me sad and uh It's a simple thing All you got to do, babe Is close your eyes and read that My love is for you, girl, and never